Capitalesimo, questa crasi nasce dall'unione di due parole ovviamente, capitalesimo e feudalesimo, che sono tra loro molto distanti, ma hanno oggi nella vita che facciamo tutti i giorni una sovrapponibilità su molte aree, perché il capitalismo ci ha portato a un'affermazione di grandi gruppi che hanno una forte capacità, che è quella tecnologica, grazie alle reti e alle risorse finanziarie di cui sono dotati questi gruppi, e poi ce ne parlerà anche Marco. L'unione di tecnologia e grandi capitali ha fatto evaporare la ricchezza della moneta fisica in una serie di codici alfanumerici che possono girare per il mondo. e che vengono allocati come patrimoni tipicamente nelle realtà offshore, cioè in quelle banche, in quei conti correnti, che non sono posti sotto la giurisdizione di uno Stato, ma appartengono a quell'over the counter, cioè a quelle piattaforme che stanno al di fuori dei paesi, e che sono regolamentate con un diritto anglosassone che ha la centralità nei trust. I trust sono un istituto giuridico che consente di trasferire la ricchezza e la proprietà a un trustee che per conto di altri beneficiari amministra questi beni e li alloca a secondo disposizione.